Inflazione, cosa sta cambiando? Migliorerà, peggiorerà? Cosa ce ne frega? Nel senso che purtroppo noi non abbiamo nessuna possibilità di impattare sull'inflazione e quindi quello che possiamo fare è impattare sulla nostra economia, perché esistono due economie. Esiste l'economia che c'è fuori, inflazione, crisi, e poi c'è la mia economia. Che cosa faccio con le informazioni che ho? Come studio? Come guadagno i soldi? Come li proteggo? Come li produco? Come li gestisco? E via dicendo. Quindi, l'inflazione salirà, rimarrà stabile o scenderà? Boh, quello che vi posso dire, o che vi insegnano a scuola, quando ho fatto il corso di economia politica all'Università Cattolica a Milano, mi hanno insegnato che c'è il periodo alta inflazione, a questo punto l'inflazione fa aumentare la crisi, perché una serie di persone non possono più permettersi di comprare quelle cose. Io, questi giorni, rimango abbastanza sbalordito del costo dei ristoranti. Sono andato a mangiare un paio di volte fuori e il mio primo pensiero è ma come fa una famiglia che guadagna 2000 euro a poter mangiare fuori due, tre volte al mese? Cioè, o sono io che mangio in posti strani, ma sono andato a mangiare un sushino qua vicino all'ufficio, eravamo due persone, 89 euro e non abbiamo mangiato, chissà, e io poi non bevo e quindi anche questa cosa. Quindi, a parte il discorso cracco, che è chiaramente inavvicinabile per la maggior parte delle persone che hanno uno stipendio normale, perché questo? È abbastanza semplice per l'inflazione. Chi è che viene danneggiato maggiormente l'inflazione? Vengono danneggiate le persone che hanno lo stipendio fisso, perché, come dice la parola, lo stipendio è fisso. Abbiamo un approccio diverso, perché in Europa noi stiamo molto attenti all'inflazione, perché la Banca Centrale Europea ci tiene molto a tenere l'inflazione sotto controllo. Quindi inflazione più bassa, più tranquillità nei conti, più tranquillità anche nel far spese, nel prevedere spese future e quindi aria euro più stabile. Però non sta succedendo, perché chiaramente siamo stati toccati pesantemente dalla guerra in Ucraina. E perché l'inflazione è incrementata? Beh, la prima cosa è che è incrementata una materia prima importante, che è il grasso, la benzina, tutto quello che serve per produrre energia. Noi siamo un paese energivoro, quindi qualunque cosa, anche questo video, anche quello che stai facendo in questo momento, richiede un sacco di energia. E quindi è chiaro che se prima io avevo una bolletta di 60-70 euro, adesso la mia bolletta è 400-500 euro, provate a pensare a un ristorante, a un hotel, a una spa. Cioè, chi è energivoro incomincia ad avere delle bollette assurde, quindi a sua volta dovrà aumentare il cibo, per produrre il cibo costerà di più e via dicendo. Quindi diventa un gatto che si mangia la coda e che è difficile da stoppare. Quindi chi si avvantaggia con l'inflazione è quelle persone che vendono cose che non sono soggette all'inflazione. Cioè, che io la vendo a 100, l'inflazione a 10, la vendo a 110. E c'è una certa rigidità della domanda all'offerta. Cioè, se aumenta il prezzo fino a certi livelli, la gente continua a usarlo. Cioè, il caffè probabilmente è una di quelle cose che magari aumenta il prezzo del caffè, aumenta un po' il costo del caffè. Vabbè, 1, 10, 15, 20 centesi, se ci pensate che è una cifra importante, non gliene frega niente nessuno e continua ad andare. Invece, altra cosa che mi ha stupito un casino è il costo di qualunque cosa, dall'andare a sciare, agli hotel, è tutto incrementato in maniera pazzesca. E quindi chi soffre, soffrono i più deboli. Quindi, provate a pensare, magari sono io, mia moglie, siamo due insegnanti, abbiamo un reddito magari 1.700, 1.700, 3.400. E cazzo, 3.400 che una volta, oh, erano i famosi quasi 7.000 euro, 7 milioni di lire, 7 milioni di lire una volta eri in nababbo. E invece adesso, due stipendi fissi, se vivi in una grande città, rischi di non arrivare alla terza settimana del mese. Perché comunque, 3.400, 400 euro magari per le bollette, il condominio aumentato, se c'hai una rata di un mutuo, una macchina e via dicendo, arrivi a zero o sotto zero. E quindi diventa complicato. Diventa complicato anche investire. Perché prima bastava che compravi delle cose e le mettevi lì, adesso invece i tassi di interesse alto fanno scendere le azioni che usano molto debito. Altra cosa, ci potrebbe essere un po' di problemi in alcuni settori immobiliari. Ad esempio in questo momento non lo stiamo vedendo, perché la richiesta di immobili è molto grossa, soprattutto nelle città dove lavoro. Io vi ricordo che ho circa una trentina di società immobiliari e faccio operazione immobiliare un po' tutta Italia. Quindi fortunatamente per adesso non sentiamo problemi. Ma potrebbero esserci, perché se il costo del denaro continua a crescere, le persone potrebbero continuare a avere problemi ad avere mutui. Se prima magari il rapporto rata reddito bastava essere un terzo, quindi se guadagno 3.000 euro posso fare una rata di mutuo di 1.000 euro. Se il tasso di interesse sale, vuol dire due cose. O che i prezzi degli immobili devono scendere, che però non stanno scendendo perché i prezzi dei materiali sono saliti. E quindi ecco, c'è questa cosa che secondo me si sta per aggiustare. Lo sto vedendo in tanti settori. Un po' i prezzi dei materiali prime incominciano a scendere, non così rapidamente, ma incominciano a scendere. C'è alcune problematiche legate al mercato, che sono inflazioni derivanti da scarsità. Quindi ad esempio, non so se avete seguito la storia del 110 o dei vantaggi fiscali. Questo ha fatto lievitare i prezzi in maniera assurda nell'immobiliare e anche le ristrutturazioni, anche la manodopera, ha diventato tutto un casino. Adesso quelli che prima facevano i brillanti, che dicevano Ah ma cazzo, ma tanto io c'ho tanto lavoro di là, c'ho tanto lavoro di qua. Adesso ti chiamo e dici, oh non è che c'hai un lavoro da darmi? No, mi hai trattato male prima, ti mando a fanculo anche adesso. E quindi il tema sostanzialmente è non sappiamo che cosa succederà all'inflazione, dobbiamo essere pronti per analizzare tutti i tre scenari. Lo scenario di inflazione stabile, cioè che ritorni attorno sotto il 2%, che è l'obiettivo dell'euro. Inflazione, iperinflazione, cioè che superi il 10, 15, 20% e quindi dobbiamo abituarci a vedere i prezzi dei menu che cambiano velocemente, dobbiamo abituarci a vedere la cosa che prima pagavamo 1.000 e adesso pagare 1.200, dobbiamo abituarci a vedere gli affitti che salgono e dobbiamo abituarci a vedere anche il valore degli asset che crescono. oppure un periodo di stagflazione. La stagflazione è una cosa brutta. Andatevi a vedere che cosa vuol dire stagflazione, che può succedere magari in alcuni mercati o in alcuni tipi di economie. Io sono Alfio Bardolla, qua sei all'Alfio Bardolla Training Group. Siamo la più grande società in Europa di educazione finanziaria. Perché? Perché se non sei ricco, nessuno te l'ha ancora insegnato. Ciao!